Monza Camper oggi vi presenta il Challenger 396 Start Edition. Spazio e organizzazione sono le prime parole con cui definiamo questo semi integrale. Infatti il 396 si presenta sul mercato dei veicoli ricreazionali con un layout che ridefinisce il mercato del camper familiare. Come? Challenger lo chiama Duo Bed. Sono i due letti a castello basculanti che appaiono e scompaiono all'occorrenza lasciando il posto a una dinette secondaria posteriore face-to-face con tavolino reclinabile. Bello vero? Questo spazio giochi per i bambini si trasforma in un attimo nel loro angolo notte. Il Duo Bed si classifica come unico nel mercato del camper e personalizzabile a seconda delle necessità di uno o due letti. Il grande oblò panoramico illumina di giorno e fa sognare la notte. E anche l'occhio vuole la sua parte. Challenger lo sa bene. La luminosità dell'interno è data dalle finiture Cosby in legno chiaro e la grinta dal contrasto dei tessuti alfa grigio chiaro e scuro. Il grande armadio con ante scorrevoli è posto sopra il garage. e permette di avere sempre tutto sotto mano, senza sacrificare nulla. Potremmo descrivere questo semi integrale ancora per molto, ma se siete arrivati fino a qui, il modo migliore per soddisfare le vostre curiosità è venirci a trovare! Monza Camper! Più liberi, più felici!